Lo chiamavano il governo dei migliori e il governo dei migliori ne ha pensata un'altra recentemente e che è quello di mantenere il coprifuoco fino alle 22 e consentire l'apertura dei ristoranti fino alle 22. Ma c'è qualcosa che non funziona in tutto ciò perché se io metto il coprifuoco alle 22 e consento ai ristoranti di stare aperti fino alle 22, siamo sicuri che i ristoranti staranno aperti fino alle 22 o c'è qualcosa che non va e come funzionerà la vita degli italiani. Immagino turme di italiani che corrono in un ristorante al centro ovviamente ricco con un enorme parcheggio nelle immediate vicinanze con un amico pronto in macchina rombante a motore acceso perché poi deve correre a casa entro le 22 dopo aver mangiato fino alle 22. Ora sembrerebbe un cortocircuito mentale di governo e la dimostrazione che probabilmente migliori non lo sono per modo di dire ma soprattutto è la dimostrazione che ancora una volta stanno prendendo in giro la filiera dei ristoratori. Ecco uno degli altri motivi per cui Fratelli d'Italia chiede che il coprifuoco venga immediatamente abolito. Domani ci sarà un ordine del giorno di Fratelli d'Italia qui alla Camera dei Deputati, ne discuteremo, chiederemo che venga abolito il coprifuoco, una misura da guerra, una misura che non ha nessuna copertura istituzionale, una inaccettabile compromissione della libertà di movimento dei cittadini a rilevanza costituzionale sprovvista di ogni fondamento scientifico a meno che non ci vengano dire. Questo è possibile che in Italia tra le varie varianti si stia diffondendo la variante vampiro del coronavirus, quella per la quale il virus dorme sino al calare del sole e col favore delle tenebre il virus esce. Allora mi immagino turme di italiani che vanno al ristorante alle sei e mezza, sette, mangiano poi velocemente a casa a chiudersi a doppio mandato, a inchiodare assi alle finestre e cospargere dagli o la casa perché abbiamo il coronavirus variante vampiro. Oppure più semplicemente non abbiamo i migliori al governo. Oppure più semplicemente i migliori al governo sono i migliori nel prendere in giro ancora una volta la filiera della ristorazione aprendola fintamente tenendola chiusa di fatto. Se tu dai la possibilità al ristorante di aprire fino alle 22 non puoi mettere il coprifuoco alle 22. Lo capisce mio figlio Giovanni che ha sei anni e dato che lo capisce mio figlio Giovanni che ha sei anni lo abbiamo non solo capito anche noi di Fratelli Italia ma lo dovrebbe capire anche Drani, lo dovrebbe capire anche il governo dei migliori e dato che lo capiscono non c'è altra soluzione ci prendono in giro sono i migliori a prenderci in giro sono i migliori a raccontare di finte riaperture. Oggi sono rivolte solo ai ristoranti all'aperto fino alle 22 con coprifuoco alle 22. Mi immagino questi italiani che con ancora la paillarda di traverso corrono a casa quelli che si portano dietro il piatto con della spaghettata alle vongole la finiscono in macchina correndo a casa dopo aver velocemente pagato il conto al ristorante perché alle 22 c'è il coprifuoco. Allora ancora domani alla camera ci sarà l'ordine del giorno di Fratelli Italia e vediamo chi sta da quale parte. Per noi il coprifuoco deve essere abolito, non esiste la variante vampiro al virus che si è propagata solo in Italia, basta limitazioni costituzionali agli italiani ma soprattutto basta prendere in giro la filiera della ristorazione. Chiunque può percepire che se io metto il coprifuoco alle 22 è inutile che io consente ai ristoranti di rimanere aperti sino alle 22. Al di là di scenette tragicomiche di italiani che mentre pagano stanno ancora, mentre sono alla cassa a pagare e continuano a mangiarsi la carbonara se la portano in macchina e fanno una via di mezzo fra il ristorante e il delivery. Ecco, dato che questo non è il panorama che noi ci immaginiamo per far ripartire le imprese, abolire immediatamente il coprifuoco, smetterla di ragionare per codici lunari e marziani, codici a teco per chiudere intere filiere fra cui quella della ristorazione, immediatamente pensare codici, protocolli di sicurezza per far aprire tutte le imprese a partire da quella della ristorazione partendo da un presupposto che non esiste il coronavirus variante vampiro che ci constringa ad andare a casa alle 22 ma soprattutto che i monatti e gli untori non sono baristi, ristoratori, pizzaioli che si sono adeguati ai protocolli di sicurezza ma è chi dal governo non è ancora riuscito a immaginare un piano pandemico che riguardi i trasporti veri e propri focolai di infezione di giorno e di notte a prescindere dalla variante vampiro del coronavirus, chi non è riuscito a organizzare le scuole a dimensione di pandemia, chi ancora oggi fatica con la sanità, con le cure domiciliari della sanità. Quelli sono i monatti e stanno al governo, non i ristoratori che non meritano di essere nuovamente presi in giro con la riapertura fino alle 22 e il coprifuoco alle 22 perché caro Draghi o tu hai in mente i ristoranti condominiali o banalmente un ristorante non apre fino alle 22 se c'è il coprifuoco alle 22. Cronache marziane da Roma, questo è tutto, fratelli d'Italia ancora una volta in campo per difendere la dignità dei cittadini che sudditi non sono e che non debbono più avere il coprifuoco a distanza di un anno dall'insorgenza della pandemia e soprattutto a difendere chi chiede non ristori che arrivano tardi e sono irrisori e non coprono neanche i costi fissi ma chi chiede solo di poter lavorare con o senza la versione vampiro del covid. Buona serata a tutti.